Siamo notati Gesù e Maria, oggi il 21 novembre la Chiesa celebra la memoria della presentazione della Beata Vergine Maria, una delle tante feste mariane del calendario romano, che ci presenta un aspetto particolare della vita della Madonna, non descritto direttamente dai Vangeli, ma tramandatoci dalla tradizione. Cosa celebra questa festa? Allora, noi sappiamo che presso gli ebrei, prima che venisse Gesù, non esistevano presso di noi i frati delle suore, la vita consacrata non c'era. Compito di ogni membro del popolo di Dio, maschio con femmina che fosse, era diventare grande, dopodiché sposarsi e fare tanti figli per il Signore, quando è vero che il segno più grande della benedizione di Dio, penso che lo sappiate, era una famiglia numerosa, chi era senza figli, ricordata nel bisogno di Santa Elisabetta, anche Santa Anna, la mamma di Samuele, era considerato non benedetto dal Signore. Questo perché soltanto quando è venuto Gesù, che ha vissuto senza sposarsi con una vita di totale benedizione al Signore, è entrata anche nel mondo in questa forma particolare di vita, che è appunto quella di rinunciare al matrimonio, non perché non sia una cosa bella del matrimonio, ma per vivere il matrimonio direttamente con il nostro Signore, quindi per trasferire la dimensione affettiva e totalmente sposata nel rapporto oggi. Questo non c'era in l'Antico Testamento. Una cosa che c'era era che le ragazzine piccoline, quindi fino a 13 anni, specialmente quelle appartenenti alla tempura regale di Giuda, potevano regarsi al Tempio di Gerusalemme, grande Tempio ristrutturato da Erodem, grande Tempio di Gesù, e trascorrere la loro infanzia nel Tempio, essere educati nel Tempio, essere seguiti nel Tempio da una maestra, fino a quando non erano grandi e dovevano quindi poi riuscire per sposarsi. Ecco, la Madonna ha fatto questa cosa, questo celebra, la tradizione ci tramanda che intorno a quando aveva tre anni, fu condotta dalla Sant'Anna al Tempio e le rimase fino a quando uscì per andare in sposa a San Giuseppe. E sempre la tradizione della Chiesa, sul regalo di tanti scritti di santi, lega questa festa a un'altra esclusiva della Madonna in questo giorno. La Madonna avrebbe offerto, fu la prima creatura a farlo da tutti gli esseri umani, la prova per genitati, dicendo al Signore ci guarda, io lo so che qui in Israele tutti dovremmo andare in sposa, dovremmo avere i figli, io però vorrei essere la sposa di una mamma. E fece questa offerta al Signore. Voi sapete che l'offerta al Signore è quella accettata, perché è vero che la cosa non è andata in sposa, ma è andata in sposa in un matrimonio di un tutto particolare, è vero che è diventata madre, è diventata madre in un modo del tutto particolare. Quindi questo è il significato di questa festa. Cosa ci dice questa festa di tanto importante sia della Madonna sia per noi? Prima abbiamo sentito nel Vangelo dire da parte di Gesù queste parole. Mia madre e i miei fratelli sono loro che compiono la volontà di Dio. Questo è un bel complimento quanto alla Madonna. Nell'ufficio delle letture di oggi nella Chiesa si leggeva un passo di Santa Costina, dove Santa Costina dice che è più importante per la Madonna essere stata una grande discepola di Gesù, quindi averlo concepito nel cuore, per mezzo della fede e della santità, che non le sia restata madre nel corpo. Quindi questa bambina a tre anni sentì l'ispirazione di Dio e anche con il sacrificio del comportoso, perché con una bambina di tre anni, stancarsi anche dai papà e da mamma, è un bel sacrificio, andò in obbedienza a Dio nel Tempio, ascoltò la voce di Dio che nel suo cuore gli chiedeva di fare un gesto di virginità, che tra l'altro è un gesto del tutto nuovo, inusuale e impensabile da quei tempi. E lei disse di sì. Gli disse di sì al Signore, non sapendo neanche, infatti non lo sapeva, come questa cosa sarebbe potuto succedere. Questo gli chiedi, questo gli offro, poi, a cui questo si farà, ci pensi tutti, ci pensate che trovanta la vita della Madonna così, perché quando la Madonna è uscita al Tempio e le disse che dovevano andare a spogliare Dio Giuseppe, immaginate, no? E adesso? Quindi il Signore non vuole più che sono vergine, che faccio? Che non faccio? Si è fatto un bel altro atto, un affidamento e capite? Il Signore ha trovato dei modi assolutamente particolari per trovare, per accogliere l'offerta di Maria che è tutelare i suoi risultati su di lei. Allora, ubbidire la volontà di Dio e affidarsi completamente a Lui. Poi, in questi anni sappiamo che la Madonna ha fatto una vita, sapete che oggi è una giornata delle prostrate anche, delle monache di coso. Cosa fanno le monache di coso? Le monache di coso non è che non vanno a fare niente. Molta gente ci dice, cosa fanno questi? Se ne vanno, si rinchiudono dentro le quattro mura e non fanno niente dalla mattina, dalla sera. No? Ecco. Le monache di coso ora sono state chiamate, lo dico sempre, in questi giorni va la funghi di vita e l'umanità perché ci mostrano, numero uno, il primato della vita e del rapporto personale con Dio che si cerca e si trova in silenzio. Numero due, l'importanza della bie. Quanta gente qui a sermonita prega contro il marone cristiano a meno un'ora al giorno? Quanti ne conoscete che pregano a meno un'ora al giorno? Non so, dai, qui siamo pochini, no? Pensiamo che ci sono in tutto il mondo. Chi è che prega anche per quelli che non pregano? Perché se noi non lo preghiamo, il nostro Signore dei grazi è un primo, eh? Sì, sono le monache di coso, sono le persone che si dedicano completamente alla preghiera, facendo una vita evidentemente mariana, perché la cosa più grande che la Madonna fa, proprio la persona di Maria Santissima ci insegna, è intercedere con la forza unica della sua preghiera presso Dio. La Madonna è chiamata la Vergine del silenzio, tutti noi dobbiamo molto imparare a fare silenzio per tante buone ragioni. Punto primo perché è nel silenzio che si instala un rapporto personale con il Signore. Punto secondo perché ci teniamo larghi, il 75% delle volte che parliamo, ci teniamo molto larghi, sarebbero una volta o mezza, ci senti, d'accordo? Perché molte volte parliamo malamente. E punto terzo perché questo clima è il clima dato alla preghiera, anche la preghiera di intercessione. Quante volte noi, quando abbiamo un problema, una difficoltà, personale o di persone, la prima cosa che facciamo è pregarci solo. Non abbiamo una difficoltà, la prima cosa che abbiamo è andare davanti al Santissimo Sacramento, mettersi in silenzio, parlare con Gesù e fare discernimento, faccio o non faccio, confrontandoci con lui. Ecco, lo stile mariano è questo stile, quindi questa bellissima festa che ci parla proprio dell'importanza dell'offerta di noi stessi a Dio e del darsi completamente a lui questo rapporto di amore, ci parla anche nel primato livello del silenzio e della vita di preghiera. Facciamo sempre molta attenzione, ecco, io so che si erano diventati bravi, a custodire il silenzio nel luogo santo, nel luogo santo, in chiesa. Ecco, c'è stato qualche recente santo che ha detto che in molte chiese, stuali parole, silenzio è una parola che si legge soltanto nei cartelli, ma tutto si fa a meno che silenzio. E tutti i torti non ce l'ha, perché ovviamente se si va in giro... però ricordiamo che Gesù ha detto nel Vangelo di ogni parola inutile sarà chiesto molto agli uomini nel giorno di giudizio. Pensiamo a degli acchiere fatte nel luogo santo, cioè anche io devo fare sempre attenzione perché non ci siamo tanto abituati oggi a queste cose, vedete? Però è fondamentale che impariamo il galateo della casa di Dio, capite? Cioè noi abbiamo un galateo umano e c'è un galateo divino, questa è casa sua. Quindi a casa di Dio si può parlare? Io sto parlando adesso, ma sto parlando di Lui, si parla di Lui o si parla con Lui o si parla per Lui, no? Secondo qua la testimonianza di fede dal pulpito, oppure si fa un bel coro, un bel concerto di musica sagra, per carità musica, per Lui. Però poi il resto deve essere rigorosamente tutelato, perché il silenzio è il mondo di Dio, ma è il mondo dove Dio incontra noi e dobbiamo sempre più e sempre meglio imparare a riscoprirlo, a riscoprire anche la bellezza e l'importanza, a tutelarlo, quindi a rispettarlo e a vivere. Siamo dotati Gesù e Maria. un misericordioso una un disturbo Grazie a tutti